Proprio come la quinta puntata della scorsa settimana, anche la sesta della terza stagione di The Mandalorian approdata su Disney Plus questo mercoledì a me non ha fatto impazzire. Parliamoci chiaro, non la boccio, ci mancherebbe stata carina di intrattenimento, è diretta da Bryce Dallas Howard, la figlia di Ron Howard, che sappiamo ormai sia un volto noto nell'universo di Star Wars. Però se dovessi mettere a paragone queste ultime due puntate con le prime quattro per me la differenza è eclatante, poi è anche una questione di percezione del pubblico. Ad esempio io da The Mandalorian mi aspetto sempre quell'azione straordinaria che mi faccia restare ogni volta compiaciuto e al contempo che mi faccia divertire. Questa cosa è, almeno a mio parere, ben esplicitata nelle prime quattro puntate, troviamo delle situazioni sia di combattimento, sia di inseguimento, sia anche proprio di trama che pian piano va a delinearsi all'orizzonte con i Mandaloriani che vanno a purificarsi nelle acque di Mandalore, che ritrovano la propria identità, che poi sono pronti a svolgere delle missioni sempre più difficili. In queste ultime due ammetto che quella della scorsa settimana mi avesse un po' deluso, visto che su carta era così interessante, a livello di messa in scena, a livello di spettacolarità. Quella di questa settimana l'ho trovata forse più basata sul sorprendere a tutti i costi il pubblico, anche con dei cameo simpatici ma non richiesti, piuttosto che sul sorprendere a livello di spettacolarizzazione di queste missioni che si ritrova a vivere sia il nostro Mandaloriano sia Bo-Katan. Perché, ne parlerò con spoiler, come ben saprete, adesso i due sotto il comando di Bo-Katan stanno cercando i Mandaloriani esiliati. Una volta trovati si potrebbe riconquistare il pianeta Mandalore. Poi questa cosa, seppur questi mercenari si vedano all'inizio in una scena fra le più belle che abbia visto negli ultimi anni in campo Star Wars, perché vediamo questi umanoidi, vediamo i Mon Calamari, come si chiamano, che vengono rappresentati in un momento diffusione, anche sentimentale. Mi è piaciuto molto il fatto che i mercenari dovessero pagati, dovessero cercare quest'umanoide, ma prima di andarsene, costretto, saluta la sua amata e c'è questo bacio. Questa unione che viene rappresentata all'inizio di Star Wars, questo scambio d'affetto, mi è piaciuto tantissimo, è una delle scene più belle che abbia visto sia in The Mandalorian sia nell'universo di Star Wars, quindi non voglio dire che di pregi l'episodio non li abbia, e anzi, ripeto, lo salvo. Però successivamente, quando ci si sofferma su questo pianeta Plasir per cercare di capire perché i droidi abbiano un malfunzionamento, ho percepito anche un pochino di, non lo so, forse ridondanza. Mi è sembrato troppo lungo, in primis l'episodio, per ciò che vuole raccontare, ma soprattutto me lo vuoi far durare sui 40 minuti, ok, la durata va benissimo, però almeno inseriscimi qualche scena d'azione degna di nota, come The Mandalorian si sa che sappia fare. Io ripeto, faccio sempre l'esempio del momento in cui Bo-Katan va a salvare Mando nelle acque di Mandalore e risalendo vede questa figura mostruosa nelle acque. Quella scena per me così semplice è stata efficacissima, oppure penso agli inseguimenti stellari, ma penso anche all'episodio 4 da tanti criticato, mentre per me è stato veramente coinvolgente anche a livello di messa in scena quando bisognava salvare il figlio del Mandaloriano, dove c'erano queste figure, dove c'erano questi draghi, queste creature. Purtroppo in questo episodio è mancato l'aspetto spettacolare. Mi è piaciuto vedere un pianeta che quasi ricorda Blade Runner a livello di ambientazioni. Mi è piaciuto che si vada anche a parlare dei separatisti, si cita il conte Docu, abbiamo il cameo di Jack Black che è il principe del posto, abbiamo il cameo di Christopher Lloyd che è un separatista con nostalgie separatiste per meglio dire e quindi capiamo che dietro a questo giallo che si va a creare ci sia lui su questi robot droidi malfunzionanti che invece sarebbero dovuti essere ricondizionati. C'è la trama per quanto metta da parte l'aspetto orizzontale per concentrarsi su una sceneggiatura verticale e si sa che questa cosa possa dar fastidio a tanti, a me no. A me proprio non ha infastidito perché mette un attimo da parte la trama orizzontale, ma per un semplice altro motivo. Perché manca a livello di spettacolarizzazione anche quell'enfasi che io ho sempre trovato nella serie. Cioè sono carini i momenti in cui Mando cerca di provocare questi droidi per vedere la loro reazione, però tutto si risolve velocemente. Belle le ambientazioni, a livello anche scenografico. I cameo, ok, che bello vedere Jack Black, che bello vedere Christopher Lloyd, ma nel senso non è che la puntata io la salvi perché la salvi elogandola perché ci sono loro due. No, mi ha fatto piacere rivederli, ma pazienza. E mi è dispiaciuto che poi sul finale anche il passaggio della spada oscura da Mando a... Bo-Katan sia stato così frettoloso. Anche lo scontro fra Bo-Katan e il mercenario mandaloriano è stato molto sbrigativo. Ecco, in questa puntata si poteva mettere da parte forse un aspetto ironico troppo marcato con questi cameo di Jack Black, di Christopher Lloyd. Si poteva un attimino renderla più omogenea, riuscendo a far amalgamare bene assieme il giallo che prende vita con un comandante con simpatie separatiste, nostalgiche e al contempo una seconda parte dedicata a un passaggio, a una consegna della spada. Cioè una cosa che dovrebbe essere epica, invece con una spiegazione blanda questa cosa. Si verifica, e vabbè. E poi c'è questa battaglina misera fra Bo-Katan e il mercenario. Cioè avrei preferito che l'episodio fosse diviso in due blocchi. Nel primo ci soffermiamo su Plasir 15, capiamo, è bello anche rivedere dei droidi che non vedevamo dall'attacco dei cloni, quindi Star Wars episodio 2. E poi nella seconda parte si porta un pochino avanti la trama orizzontale. Cioè, perché non è che non si faccia qua, è come lo si faccia, che è troppo sbrigativo. Per questo io la considero, insieme a quella della scorsa settimana, la puntata meno riuscita. Già la scorsa settimana con quel cliffhanger finale, Moff Gideon liberato, per quanto potesse essere veloce, però era un segmento efficace per me. Perché prima si racconta tutt'altro e poi sul finale, oh caspita, ma qua, cioè non c'era bisogno di dilungarsi troppo. Qua, per rendere più epico il passaggio di testimone di questa spada oscura, sì, io non metto in dubbio che poi le ultime due puntate si incentreranno su un Moff Gideon ritornante, però ascoltate le mie parole, Moff Gideon sarà fondamentale nella quarta stagione che sicuramente ci sarà. Qua lascerà le prime tracce, ma sicuramente ci saranno altri problemi da estirpare alla radice prima di arrivare faccia a faccia con Moff Gideon, o magari succede anche, però la gran parte delle cose sarà rimandata alla quarta stagione. Quindi questo è il mio parere, così, di una puntata comunque che Bryce Dallas Howard dirige, si vede con naturalezza, si vede che ormai dietro la macchina da presa nell'universo Star Wars agisca bene, agisca con efficacia, che si senta al sicuro, però non lo so, mi aspettavo qualcosa in più, qualcosa che ho trovato nelle prime quattro puntate che invece da tanti sono state criticate. Per me solo la seconda è stata bellissima, la più bella, per non parlare della terza, ragazzi, la terza con tutto il piano, no, per far fare poi quella sorta di lobotomia al dottore, con questo personaggio enigmatico, misterioso di questa ragazza che prima lavorava nell'Imperio, e quanto funziona il programma Amnistia. Cioè, lei era a stretto contatto con Moff Gideon, lei sarà importante nelle prossime due puntate, ne sono convinto. Quindi, insomma, però comunque è una puntata carina, ecco, non la boccio, ma si poteva fare di più. Ha i suoi pro, dopo quell'inizio mi aspettavo il meglio, ma ha anche i suoi contro. Quindi fatemi sapere nella sezione commenti il vostro parere al riguardo, vi ricordo che trovereste tutte le recensioni delle puntate precedenti e che nelle info trovereste anche il link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra, oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto e alla prossima!